Nel dettaglio del programma, come potete vedere dal comunicato, a Castelnuovo si atterneranno dal 28 giugno fino al 2 ottobre una serie di artisti, di compagnie, di gruppi, delineando un programma variegato. Si va dalla musica, che inauguriamo appunto con Daniele Sepe, che ringrazio, lo vedo che l'ho visto prima, Daniele Sepe il 28 luglio, avremo poi virtù di San Martino, Ico Sang, Chiamamegretta con Raiz, Maria Pia De Vito e Valentina Stella, nonché Bucariello, Izezi e finiremo con un progetto di Eugenio Bennato Napoli Taranta Festival, Napoli Taranta Festival alle 13 e 14 settembre. In particolare vorrei sottolineare la collaborazione istituzionale, questa volta col teatro San Carlo, che al Maschio Angiaino ha lasciato il palco che aveva costruito e che quindi diventa un elemento di collaborazione forte per la città e che nel caso del concerto di Bennato collaborerà con la presenza dei suoi musicisti. Oltre alla musica avremo delle performance di teatro, ringrazio Nello Mascia che è qui, che presenterà per tre serate uno spettacolo dal libro La Peste di Tommaso Sodano. Vorrei ricordare l'evento del 11 settembre, strage complotto con Ferdinando Mantaloni che in sale, e che ringrazio, avremo una serata con Fidel Bronx, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, non so se è in sala però è una grande collaborazione della quale voglio appunto precisare un grande ringraziamento e una serata il 15 settembre con Ricomincio da tre, una serata dedicata a Massimo Troisi. Per quanto riguarda il teatro invece abbiamo inglobato nella rassegna e di questo voglio sottolineare l'impegno di due grandi manifestazioni che già esistono, è la manifestazione aggregazioni che si tiene all'orto botanico ed è già iniziata nel discorso con la cura di Pozzo e Pendolo di Cilio Salvatino e di altre numerose compagnie, piccole compagnie che appunto rendono spettacoli al realo orto botanico. Inoltre anche quest'anno come ormai tradizioni da molti anni, l'estate di Napoli avrà la rassegna ridere del teatro Toto al Maschio Ingenio e la parte centrale del mese di agosto. Infine all'orto botanico per quanto riguarda il teatro qualche manifestazione dedicata ai spettacoli per ragazzi sarà cura dei creatri. Sulla danza avremo alcuni momenti di contact improvisation con Chiara Danza, domenica 31 luglio, avremo il festival di tango, Tano Tango che avrà diverse localizzazioni nella città e alcune serate alla Galleria Umberto I e nella città ovviamente ricordiamo tutti la già iniziata rassegna anche quella di grande tradizione, accordi e disaccordi per quanto riguarda il cinema al Parco del Poggio. Ci saranno poi numerosi altri piccoli eventi che vedete nel calendario che sono anche disseminati, piccoli concerti acustici, altre proiezioni cinematografiche all'aperto, a Ponticelli, al Piscino, a Scampia, cose che abbiamo, ripeto, messo a sistema. Non vogliamo dire che siamo riusciti a fare tutto da soli ma l'abbiamo fatto in collaborazione con chi è stato vicino a questa organizzazione avvenuta appunto negli ultimi 10 giorni. Un altro elemento importante che vogliamo ricordare è l'attività dell'osservatorio palestina di contaminazione a Piazza Bellini ed infine un evento che inaugura la rassegna appena dopo l'evento musicale con Daniele Sepe è il 29 luglio al Maschio Angelo, un evento un po' sui generis, ma abbiamo voluto realizzarlo come testimonianza di questa energia positiva delle città, in questo caso non si parla solo di Napoli ma di Napoli e Milano e dunque il sindaco De Magistris e il sindaco Giuliano Pisapia faranno un incontro pubblico alla presenza di Roberto Pecchioni e alla presenza di Lucia Annunziata che modera l'incontro. Questo avverrà il 29 luglio la settimana prossima al Maschio Angelo. Dimenticavo un'altra cosa importante per quanto riguarda la musica che...